buonasera buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova attesissima puntata con la nostra rubrica aggiornamenti giurisprudenziali di diritto civile e diritto penale rubrica che devo dire è in verità molto seguita quindi oggi voglio dare insomma inizio apertura a questa nuova puntata ringraziandovi sì perché devo dire che davvero tanti sono i messaggi che ci inviate molto spesso di ringraziamento ma anche e soprattutto l'entusiasmo che poi trappare dai messaggi anche di domande di approfondimento di curiosità quindi insomma davvero grazie per seguirci come sempre in tanti e soprattutto come dicevo con particolare entusiasmo detto ciò io preferisco come sempre non ringarmi tanto ma passare subito a salutare gli ospiti di questa sera o meglio i relatori validissimi di questa sera che si cimenteranno come sempre nell'analisi di una di due sentenze di diritto civile e di diritto penale allora in primis saluto la nostra nuova new entry il giudice Michele Palagano buonasera e grazie buonasera grazie a voi onorati grazie saluto il prof direttore scientifico avvocato Ressio Savarese buonasera buonasera a tutti voi il presidente nostro prof Raffaele Torrese buonasera 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 l'avvocato Federica Pozza buonasera Federica buonasera a tutti e saluto il dottor Mario Cevoli buonasera Mario Buonasera buonasera a tutti perfetto allora io direi che possiamo aprire i lavori di questa nuova eh attesissima puntata eh tratto vi anticipo molto interessante perché davvero le sentenze che saranno trattate stasera sono di particolare interesse quindi seguiteci fino alla fine come sempre e eh quindi procedo a passare la parola al direttore scientifico ma prima di cedere la parola all'avvocato Savarese io voglio come sempre congratularmi per il successo eh che ha ottenuto alla alle elezioni dei delegati al trentacinquesimo congresso nazionale forense e questo per un motivo ben specifico perché ricordo che è stato eletto tra gli avvocati più giovani in assoluto del foro di annunziata quindi complimenti e cedo la parola grazie Giussi sei sempre troppo buona hai ricordato un risultato importante non solo mio ma penso di tutta la nostra scuola perché come ho detto anche la scorsa volta il risultato non è altro che il frutto di un impegno di un lavoro costante nell'ambito della formazione non solo anzi questa sarà l'occasione per portare avanti un po' di proposte che noi abbiamo insieme a tutto il team della scuola che saluto con affetto e anche gli studenti collegati direttamente al congresso nazionale forense quando si riunirà ad ottobre a Lecce insieme ai rappresentanti di tutti gli altri fori al di là di questo aspetto legato alla mia elezione ci tengo a ringraziare pubblicamente tutti i relatori presenti in particolare con affetto il giudice palagano che arricchisce ancora di più la nostra rubrica e fa sì che questa iniziativa giuridica e soprattutto formativa abbia ancora più valore e tra l'altro vi faccio fare vi strappo anche un sorriso proprio la scorsa settimana sono stato al tribunale di napoli dove diversi studenti si accingevano a sostenere l'esame d'avvocato il cosiddetto esame d'avvocato rapporzato mi hanno visto il tribunale mi hanno avvicinato e mi hanno ringraziato per la rubrica aggiornamenti giurisprudenziali sostenendo loro avevano già sostenuto l'esame d'avvocato tra l'altro dico anche all'avvocato torrese che sarà gioioso di questa cosa che sto raccontando diceva l'avvocato ma sa che tutte le tracce che fino ad ora abbiamo affrontato anche negli esami che sono stati appunto sostenuti riguardavano proprio argomenti e sentenze trattate nella rubrica aggiornamenti giurisprudenziali e allora questo vi fa capire quanto sia importante seguire questi webinar che tra l'altro sottolineavolo sono totalmente gratuiti e aperti a tutti quindi questa è un'altra cosa estremamente importante quanto sia importante per chi oggi sta sostenendo questo percorso ma anche per chi già lo ha sostenuto perché rappresentano degli arricchimenti da un punto di vista professionale e perché no poi il giudice palagano magari potrà dire qualcosa in più di me anche per chi sta attualmente studiando per il concorso in magistratura perché non ci dimentichiamo che questi aspetti riguardano anche questi studenti io saluto tutti non so se resterò fino alla fine vi ascolterò con molta attenzione e vi ringrazio per la partecipazione grazie grazie al nostro prof savarese e adesso passo la parola alla prof torrese per l'immancabile introduzione buonasera a tutti buonasera sia ai relatori saluto il mio amico giudice palagano una splendida nuventri ma saluto anche ovviamente la straordinaria giusi alessio saluto un avvocato posta il dottor cevoli che sono invece sempre con me sempre al mio fianco allora giusi ha già introdotto questo forum cerco di sintetizzare un po quello che faremo stasera che poi quello che facciamo sempre parleremo di quattro sentenze della giurisprudenza di legittimità due di diritto civile e due di diritto penale noi scegliamo sempre sentenze che sono state pubblicate di recente dal 2020 al 2022 qualche eccezione per qualche sentenza del 2019 particolarmente interessante ovviamente questo è un format interessantissimo importantissimo non solo l'abbiamo detto per chi prepara l'esame di avvocato e abbiamo visto che praticamente tutte le sentenze che abbiamo spiegato qui sono state prima o poi oggetto di traccia ma anche per chi prepara altri concorsi pubblici in ambito giuridico chiaramente lo sapete io tratto questo format come una sorta di spin off una sorta di approfondimento rispetto al corso di preparazione all'esame di avvocato e quindi cerco di trattare in questa sede una serie di argomenti che per ragioni temporali lì evidentemente non sono in grado di trattare prima di ogni altra cosa chiedo a tutti coloro che ci stanno ascoltando di mettere mi piace alla nostra pagina facebook corsi di formazione giuridica 2022 al nostro alla nostra pagina instagram centro studi piero calamandrei e al nostro canale youtube centro studi piero calamandrei non passa giorno che qualche studente mi chiede avvocato quando si terrà quel webinar e io con con le lacrime negli occhi devo dire guarda si è già tenuto perché lo studente non sa quando si terrà quel webinar quell'incontro formativo gratuito è molto semplice perché non segue la pagina chi segue la pagina ogni giorno riceve informazioni sugli eventi come un vero e proprio calendario della giornata inoltre se vi piace il lavoro che facciamo il lavoro gratuito che svolgiamo per prepararvi all'esame di avvocato almeno questa parte evidentemente lasciate una recensione sulla nostra pagina facebook corsi di formazione giuridica 2022 vi segnalo la nostra programmazione di questa settimana due giorni fa alle ore 15 abbiamo ottenuto un webinar in tema di responsabilità medica in civile e in penale e in particolare tutti gli aspetti utili ai fini dell'esame di avvocato invece stasera terremo la diretta aggiornamenti giurisprudenziali sabato come sempre due appuntamenti alle ore 15 risoluzione tracce per l'esame di avvocato alle ore 17 simulazione prove per concorsi pubblici prossima settimana nuovo format nuova sentenza nuovi incontri aggiornamenti giurisprudenziali vedremo se farli mercoledì o giovedì sempre alle 21 prima di iniziale vi ricordo qual è il nostro pacchetto la nostra offerta di corsi abbiamo tutta quella parte di offerta tutto il pacchetto relativo all'esame di avvocato che è rivolto sia a chi deve ancora sostenere l'esame ma anche a tutti coloro che lo sosterranno l'anno prossimo perché sono aperte le pre iscrizioni ovviamente il tutto numero chiuso quindi dovete affrettarvi ed è possibile sia acquistare pacchetti di preparazione individuale quindi collezioni private per la prima o la seconda prova orale sia acquistare l'intero corso comprensivo delle cool immersion quindi affrettatevi ancora abbiamo il pacchetto per i corsi di specializzazione è possibile acquistare il corso di preparazione in inglese specifico inglese giuridico in giurista di impresa i gdpr in data protection e ancora è possibile acquistare il pacchetto per i concorsi pubblici abbiamo corsi di preparazione a tutti i concorsi pubblici compreso il maxi concorso ripam compreso il maxi concorso di sga compreso il concorso tutti i concorsi nell'asl e tutti i concorsi negli enti locali comune regione eccetera l'anno prossimo e questa è la più bella novità che vi volevo sottolineare a partire da settembre o ottobre partiremo anche con la preparazione per il concorso in magistratura siamo giunti oggi alla ventottesima diretta o al ventottesimo episodio di questo format e abbiamo visto finora una miriade di argomenti fate ventotto per quattro voi che siete un po più bravi di me in matematica e vedrete di quante cose abbiamo trattato io ve ne elenco alcuna a caso abbiamo parlato di mutuo di danno il re ipsa di patto fiduciario di diffida da dempire di forma del contratto preliminare di clausole claims made del contratto di vendita del danno da perdita di chance del danno da mancata vendita di bene risarcimento del danno da diffamazione di fondo patrimoniale di oblio e in penale abbiamo parlato di omicidio di strage di assassino di orsi e di animali di maltrattamenti in famiglia di schiamazzi di circonvenzione incapace di rapina di evasione eccetera 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 c'è solo un modo per non perdersi alcuna delle dirette che abbiamo fatto in passato per evitare di perdere 40 ore sulle nostre pagina facebook a fare scroll down andate su youtube centro studio di piero calamandrei c'è una playlist che si chiama aggiornamenti giurisprudenziali e li trovate tutti gli episodi dal più recente al più antico siamo pronti a partire con la diretta di oggi io cedo la parola al giudice palagano che ci tratterà con una splendida e ve lo dico già molto difficile sentenza di diritto civile un'ultima precisazione e poi mi taccio la sentenza è molto interessante ai fini dell'esame di avvocato qualcuno di voi sentirà degli accenni un po' troppo processuali inizierà a pensare beh ma è una traccia troppo tecnica ragazzi non lo è perché se la traccia dell'esame di avvocato è formulata in modo interessante e soprattutto in modo difficile c'è effettivamente la possibilità che questa vicenda quella relativa all'efficacia della sentenza di primo grado dichiarativa o costitutiva si ponga quindi io taccio ringrazio tutti coloro che mi stanno salutando buonasera e cedo la parola al giudice palagano prego buonasera a tutti grazie ad alessio e raffaele che conosco da tempo veramente in memore qui ci regala sicuramente un rapporto di profondo affetto grazie complimenti per queste attività che fate che sono veramente entusiasmanti direi dal punto di vista giuridico per la mole di argomenti che trattate allora veniamo subito a noi quindi ringrazio il centro studi complimenti per riforma veniamo subito a noi allora la sentenza che di cui vi parlerò è una sentenza della terza sezione della cassazione civile del 2021 dell'8 ottobre 2021 la numero 27 416 del 2021 allora sì è una sentenza che affronta argomenti molto processualistici però in realtà incidentalmente è necessario passare per una buona parte di diritto sostanziale ricostruiamo un attimo il fatto allora ci sono una un soggetto si chiameremo tizio un immobiliare x e un immobiliare y vi è un contratto di vendita da parte di del soggetto tizio all'immobiliare x e successivamente vi è un contratto di compravendita dello stesso bene immobile da parte dell'immobiliare x all'immobiliare y una sentenza del tribunale di latina del 2006 il primo contratto del 94 la sentenza del tribunale di latina del 2006 dichiara nullo il contratto intercorso tra tizio e immobiliare x successivamente un'altra sentenza del tribunale di latina dichiara nullo anche il contratto ovviamente intercorso tra immobiliare x e immobiliare y queste ovvio no ecco già qui c'è un primo primo concetto diritto sostanziale il puro diritto civile che vi che di cui è il caso di parlare un attimo perché naturalmente il secondo la seconda alienazione e viene meno laddove è venuta meno la prima alienazione perché una volta venuta meno la prima alienazione il soggetto che in realtà non si è mai spogliato del diritto di proprietà sull'immobile cioè tizio l'originario alienante inibirà anche al suo avente causa di vendere quello stesso immobile perché non era più legittimato dopo la prima la prima pronuncia a vendere l'immobile all'immobile 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 x non hanno interesse a la prima a far dichiarare a accorre nel nulla la prima sentenza la seconda accorre nel nulla la seconda sentenza quindi immobiliare x e appellano impugnano le prime due sentenze e contemporaneamente chiedono un'inibitoria degli effetti esecutivi della prima sentenza l'articolo 283 del codice di procedura civile che ora di cui ora non parlo perché ne parleremo approfonditamente dopo questa appellano l'inibitoria non viene concessa e quindi passa e quindi diventa il tizio che era il soggetto quindi che aveva vinto la prima la prima sentenza e che quindi si era ritrovato a essere di nuovo nella titolarità del diritto reale tizio del diritto di proprietà sull'immobile tizio a questo punto mette in esecuzione la sentenza e mette in esecuzione in particolare quale capo della sentenza perché il punto qual è il punto è proprio questo la sentenza che dichiara la nullità è una sentenza quindi una sentenza che distrugge il titolo io attacco il titolo distruggo il titolo del di quel trasferimento cosa comporta il contratto di compra vendita il contratto di compra vendita è un contratto che trasferisce diritti quindi l'effetto del contratto di compra vendita o meglio l'effetto dal punto di vista del trasferimento del diritto è un effetto reale l'articolo 1376 codice civile prevede nel dirci qual è il principio che si che governa la produzione degli effetti reali cioè il principio del consenso traslativo ci dice quali sono gli effetti reali che sono trasferimento del diritto di proprietà trasferimento di altro diritto ovviamente perché sia rienabile per esempio diritto di credito costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su cosa l'effetto reale quindi viene posto nel nulla con la sentenza dichiarativa ciò vuol dire che l'effetto reale cosa in cosa cosa consiste non è la tradizione la consegna materiale del bene l'effetto reale consiste nel nella fuoriuscita dalla mia sfera giuridica del diritto di proprietà e nell'ingresso della medesima situazione giuridica in questo caso diritto soggettivo di proprietà nell'altrui sfera giuridica nel momento il consenso traslativo è proprio questo nel momento in cui vi è il consenso tra due soggetti tra le due parti il diritto esce da me ed entra in te questo è il trasferimento che non è la consegna la consegna è un'obbligazione succeda successore a una delle obbligazioni del venditore tranne nei cosiddetti casi che ma di cui non è caso parlare ora di vendita obbligatoria quali vendita di cosa altrui vendita di cosa genere vendita di cosa pubblica quindi è un concetto molto poco intuitivo il principio del consenso traslativo perché ovvio in un ordinamento primordiale il lo schema negoziale che si immagina per creare l'effetto del trasferimento di un diritto e non può prescindere da questo gesto che il gesto della tradizio invece vuol dire nel momento in cui raggiungiamo il consenso si produce l'effetto è molto meno intuitivo ed è tipico di un ordinamento non già mai primordiale quale poteva essere il diritto romano agli albori ma di un ordinamento già più voluto micchi micchi puoi andare un po più piano se non ti riescono a seguire la casa va bene però se vado più piano poi mi prendo più tempo rispetto ai 20 minuti te lo meriti te lo meriti il tempo non ti preoccupare va bene allora ehm quindi che cosa vi stavo dicendo ehm quindi l'effetto del del contratto di compravendita che è un contratto di compravendita che effetti prodotti effetti reali effetto reale del trasferimento di diritto tu c'è anche effetti obbligatori primo tra tutto il pagamento del prezzo ovvio è un effetto obbligatorio perché nasce il diritto di credito della del venditore a ricevere il prezzo che è il corrispettivo della vendita e poi anche l'effetto alla consegna perché appunto la consegna non è immediata al trasferimento la con e questo però dice tutto il problema che conosciamo dei dei più aventi causa dal medesimo tante causa che poi l'ordinamento deve risolvere con la trascrizione per i beni immobili con la regola del possesso valedito per i beni immobili con la notifica al debitore 1274 per la cittadina e credo ma sono altri problemi comunque ehm l'effetto quindi nel momento in cui vi è una sentenza che dichiara la nullità di quel titolo quali sono che cosa discende da quella sentenza discendono i cosiddetti effetti restitutori le obbligazioni restitutori perché oramai quel titolo è un indecco quel trasferimento di ricchezza che vi è stato è in debito non è in debito ob causa finitam non ci non vi è più la causa del trasferimento di ricchezza non vi è più la causa del trasferimento del diritto reale non vi è più la causa del trasferimento del pagamento del pagamento del prezzo allora che cosa discende da quella dichiarazione diminuita discende la condanna alla restituzione in particolare la condanna al rilascio dell'immobile da parte del di colui a cui io nel frattempo l'avevo consegnato quindi è una volta in cui pongo nel nulla il titolo anche gli effetti vengono posti nel nulla quindi dal punto di vista dichiarativo qual è l'effetto che si realizza è che il diritto rifuoriesce dalla affidante rientra nell'alienante dal punto di vista però condannatorio qual è il problema che si pone qual come si deve adeguare la realtà di fatto alla realtà giuridica si deve adeguare nel senso che il prezzo deve essere restituito quindi condanna al pagamento di una somma di dinaro corrispondente al prezzo e il bene deve essere deve ritornare che nel frattempo era stato consegnato deve ritornare materialmente tramite l'azione per il rilascio che l'azione seguita all'acquirente all'alienante al primo alienante per questo motivo avendo vinto le prime due sentenze e non essendo stata concessa l'inditoria di questa condanna ai sensi del 283 il tizio che è quindi l'originario proprietario che quindi mai si era sfogliato del diritto di proprietà mette in esecuzione il capo della sentenza che condanna al rilascio e il controparte c'è immobiliare y che era quella che poi materialmente quindi perché è il secondo avente causa che materialmente quindi detiene l'immobile posiziona l'esecuzione perché sappiamo che io come metto in esecuzione il rilascio io ho un diritto che deve essere messo in esecuzione in questo caso un diritto di credito c'è il diritto alla consegna di un bene immobile deve essere messo in esso che si fonde in realtà su un diritto di proprietà riconosciuto con la sentenza dichiarativa di nullità come lo metto in esecuzione con un'azione per rilascio perché il diritto di credito in questo caso non è al pagamento di una somma di denaro e quindi darebbe la strada alle azioni espropriative del patrimonio ma è un diritto al rilascio di un bene immobile se fosse un bene immobile sarebbe la consegna le azioni esecutive per rilascio sono 605 seguenti del codice di procedura 5 quindi fa il precetto vede che l'atto che è preordinario l'atto preesecutivo al rilascio fa il precetto e dice caro immobiliare ips mi devi rilasciare l'immobile immobiliare ips fa opposizione all'esecuzione l'opposizione all'esecuzione viene rigettata e tutta la vicenda su cui poi si incardina la sentenza della corte ricassazione prende spunto però ecce si fonda su quell'originale la sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione quindi dice la posizione all'esecuzione viene rigettata e quindi dice no perfetti con l'opposizione l'esecuzione quale problema pone nell'immobiliare ipsino dice no giudice dell'esecuzione tu non puoi mettere in esecuzione questa questo capo di condanna perché questo capo di condanna condannatorio al rilascio non è esecutivo e non è esecutivo perché è collegato al capo dichiarativo di nullità del contratto poiché il capo dichiarativo di nullità del contratto diventerà esecutivo solo una volta che mi sarà il giudicato che passerà il giudicato quel capo allora e sarà solo in quel momento che si potrà mettere in esecuzione il il capo che è relativo alla condanna al rilascio questa è la questione dell'opposizione all'esecuzione su cui poi si pronuncia la si pronuncia l'esecuzione si pronuncia la cassazione perché la la prima opposizione viene rigettata e il tribunale dice no non è vero il capo un capo di condanna per quanto collegato è immediatamente esecutivo e quindi posso mettere in esecuzione viene fatto in pugnazione la corte d'appello di roma la corte d'appello di roma riforma il tribunale di primo grado e la corte d'appello di roma dice non è vero il capo di condanna è talmente collegato al capo dichiarativo che occorre attendere il passaggio giudicato del primo per mettere in esecuzione del secondo per mettere in esecuzione il primo viene fatto il ricorso in cassazione quindi dal titolare dall'originario titolare dal datizio viene fatto il ricorso in cassazione e la questione che è chiamata a risolvere la cassazione è proprio questa che è una questione che chiama sicuramente l'articolo 282 che chiama a interpretare l'articolo 282 del codice di procedura civile quindi ricapitoliamo la questione che si pone su cui si pronuncia la corte di cassazione è possibile nel momento in cui vi sia in una sentenza un capo dichiarativo o costitutivo è un capo condannatorio mettere in esecuzione solo il capo condannatorio oppure occorre attendere il passaggio giudicato del capo dichiarativo costitutivo per poter mettere in esecuzione il capo condannatorio questa alla fine è la questione ora nell'affrontare questo problema la corte di cassazione ripercorre un attimo il dibattito giurisprudenziale che vi è stato sul punto e differenzia tra i momenti storici dicino un primo momento storico in realtà nessun capo condannatorio che fosse collegato anche in maniera esclusivamente accessoria a una pronuncia dichiarativa poteva essere messa in esecuzione occorreva attendere il giudicato della pronuncia dichiarativa classico esempio è la condanna alle spese la condanna alle spese se ci pensate è assolutamente scollegata rispetto alla causa della condanna alle spese si è vero si fonda sulla socconvenza ma è un capo di per sé scollegato rispetto al merito della della del del capo dichiarativo e questa però questo orientamento era assolutamente di chiusura e dicevano assolutamente non è possibile mettere in esecuzione alcun capo fino a che non vi sia la il passaggio di capo del primo capo io ho provato a immaginare perché la cassazione avesse questo orientamento di chiusura e ho immaginato perché fosse stata troppo legata al era era troppo fresca la riforma del 282 perché noi sappiamo che prima eh oggi il 282 prevede che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti ma non era così prima occorreva attendere il giudicato per 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 poter mettere in esecuzione la sentenza eh allora ovviamente in eh quando si andò a interpretare a questa norma in realtà già si disse in realtà dice più di quello che vuole eh plus dixit quam voluit cioè questa 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 norma perché perché è normale non tutte le sentenze solo le sentenze di condanna perché sono quelle sentenze che possono essere giure esecutive e quindi possono essere messe in esecuzione quindi già è una norma che deve essere ristretta nel suo ambito di inter interpretativo eh dopodiché eh e quindi però perché era molto fresca questa riforma probabilmente vi era un atteggiamento di chiusura della Cassazione dice aspetta un attimo noi abbiamo questa questa norma ma la applichiamo in maniera settata cioè solo le sentenze puramente il condanno cioè solo le sentenze che contengono solo capi di condanna appena vi ho un capo dichiarativo allora no bisogna attendere i giudicati dopodiché vi fu una sentenza nel 2007 che in realtà riformulò proprio tutto c'è un orientamento che andò assolutamente all'altro estremo cioè che disse non è vero è tutto immediatamente esecutivo il 282 non distingue tra sentenze dichiarative costitutive o di condanna quindi è tutto esecutivo del resto ogni condanna eh a ogni condanna presuppone una un accertamento e quindi è tutto immediatamente seguito. Ultima parte di questo nostro racconto poi si ricollega alla nostra decisione finale e vi giuro sette otto minuti massimo e ho finito ehm la eh ultima parte vi è una sentenza sezione del 2010 la numero 40 59 2010 io non ricordo mai i numeri delle sentenze questo magari un consiglio che voglio dare ai studenti non vi non impegnate la memoria a ricordare cose inutili come le norme oppure le se i numeri delle sentenze perché i codici esistono per questo ciò che è importante prima hanno detto un consiglio che dareste a chi studia il corso di magistratura è un consiglio che non è molto diverso da quello che darei a uno che studia per l'esame di avvocato o uno che magari fa il dottorato di ricerca tutti gli scritti giuridici presuppongono il ragionamento logico giuridico allora bisogna imparare a scrivere questo è il problema bisogna imparare a scrivere che non vuol dire sapere le cose a volte sempre faccio questo eh questo esclusivo bisogna imparare a scrivere nel senso che bisogna imparare la tecnica della scrittura e dell'argomentazione giuridica ogni parere il parere è un problema che la commissione vi chiede di risolvere utilizzando giurisprudenza magari già esistente eh e con un linguaggio più vicino al cliente il compito è un è un problema che la commissione vi chiede di risolvere con la logica e con le norme lì la 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 soluzione la dovete creare voi magari differentemente da quanto può venire per il parere soprattutto quando c'erano i primi codici commentati e quindi la dovete creare voi ma comunque dovete risolvere un problema per lo scritto scientifico forse il problema è un po' diverso perché là più che risolvere i problemi i problemi si pongono mi lo scritto scientifico mi rapporre i problemi te lo dico io sono anche dottore di ricerca quindi eh ho ho l'università è stata parte della mia formazione quindi io ricordo questo questa distinzione tra le varie 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 istituzioni comunque l'importante è ragionare a prescindere dal da quelle le sentenze sono itinerari argomentativi sono esempi di ragionamento ma non vuol dire che bisogna imparare quello che ha detto la corte di cassazione in quel determinato momento bisogna ragionare così come ha fatto la corte di cassazione per esempio allora scusatemi questo off topic eh tornando a noi quindi che cosa ehm che quindi che cosa dice la cassazione la cassazione dice allora questa sentenza esenzione del 2010 dicono una cosa dicono un attimo solo ma ehm prima dicevate che nulla poteva essere messo in esecuzione ora dite che tutto può essere messo in esecuzione in realtà la via come sempre la via giusta è una via di mezzo perché perché dipende dal rapporto che esiste tra il capo dichiarativo costitutivo e il capo di condanna perché vi possono essere dei capi di condanna per esempio la condanna alle spese che non ha alcun senso che non vengano messi in esecuzione possono essere messi in esecuzione dopoveri che ci sono alcuni capi che sono talmente legati al capo dichiarativo costitutivo che in quel caso è ehm è ehm è è è necessario che si attende il passaggio giuricato del capo dichiarativo l'esempio che fa che c'è il problema che risolve quelle sezioni unite atteneva al al 2.932 cos'è il 2.932 noi stiamo abbiamo anche fatto un accenno alle al rimedi di esecuzione in forma specifica ora i rimedi di esecuzione in forma specifica voi sapete che quindi dipendono dal tipo di diritto che dobbiamo porre in esecuzione allora il diritto a pagamento l'appropriazione del patrimonio del debitore eh immobiliare senza la proprietà dei beni mobili mobili o crediti a seconda dei beni del debitore eh il consegno rilascia a seconda del della del diritto alla restituzione di un bene mobile e mobile se il diritto che io devo essere tu devo avere eh tutelato richiedo che venga tutelato in sede esecutiva si è un diritto a un facile giuridico che cosa succede il facile giuridico a prestare il consenso su questo il giudice può intervenire può intervenire nel mondo del diritto il 2.932 è questo come si mette in esecuzione l'obbligo a contrarre classico esempio preliminare di compravendita preliminare il preliminare non è un contratto ma non produce effetti reali produce effetti obbligatori qual è l'obbligo che deriva dal contratto preliminare l'obbligo di compiutere il contratto definitivo quindi l'obbligo di prestare il consenso che succede se una delle due parti non vuole prestare il consenso che è un inattempimento della parte che ha un'obbligazione della parte che non vuole prestare il consenso come fa quella parte il diritto ad avere il consenso quindi della controparte viene violato come si fa a tutelare in forma specifica il diritto con una bella azione 2.932 che è un'azione con cui il giudice fa una sentenza costitutiva cioè che crea gli effetti giuridici e con questa sentenza il giudice produce gli effetti del contratto non concluso che trasferisce il diritto dalla sfera giuridica del promessare alienante alla sfera giuridica del promessare acquirente contemporaneamente condanna contro mappe al pagamento del prezzo se ciò non è già bene quindi è questo che è il 2.932 questa sentenza si vuole un problema dice ma la condanna al rilascio successiva alla dichiarazione alla pronuncia costitutiva di trasferimento del diritto può essere posta in esecuzione queste sezioni ti dicono no non può essere posta in esecuzione perché è talmente stretto il legame tra i due capi cioè è parte del primo la condanna rilascio il capo condannatore è parte del capo costitutivo e quindi non può essere messo in esecuzione e perché lo chiama dice è un vincolo di sinalagmaticità così lo chiama io non sono molto convinto d'accordo con questa espressione perché secondo me c'è un estrema complessore però vabbè è questo dice la cassazione dopodiché questa sentenza si pone nel sulco di questa cassazione quindi riforma la corte d'appello e va un poco oltre ci aspetto un attimo ma quindi quali sono i tipi di rapporti che ci possono essere e immagina quattro tipologie di rapporto il rapporto di sinalagmaticità che aveva già immaginato la sezione del 2010 che il legame più stretto quando il capo condannatorio è parte del primo capo del capo dichiarativo o costitutivo e la condanna rilascio è successiva alla dichiarazione di trasferimento del bene e quindi è uno dopo l'altro il primo contiene il secondo e che ho forse riparato più di un vincolo di continenza forse non volevano fare non volevano utilizzare espressioni processualistiche hanno utilizzato con espressioni sostanzialistiche ma forse sarebbe stato in ogni caso tecnicamente più chiaro chiamarlo in questo modo il secondo tipo di rapporto che è il rapporto meno stretto del primo ma che comunque impedisce di consente un legame stretto tale da impedire l'esecuzione del capo condannatorio rispetto al capo dichiarativo lo chiamano rapporto di corrispettività e quando lei che vi è vi è allora quando l'esecuzione del capo condannatorio creerebbe una disparità del tra delle armi con nell'assetto di interessi che che la sentenza dichiarativa mira realizzare è l'esempio che non è quello di questa sentenza l'esempio che gli originali del genere pensavo fosse questo invece non è quello di questa sentenza perché la sentenza è più sottile e qui secondo me è veramente difficile la sentenza è per esempio l'ipotesi della condanna al conguaglio nell'ipotesi di una sentenza che costituisca la una una divisione una sentenza di divisione immobili e l'eventuale diritto al conguaglio si pone in quel progetto divisionale e quindi se modifichi uno se rendi nella se rendi esecutivo solo un capo della condanna al conguaglio di fatto va in un attimo a squilibrare quella complessiva situazione questo è il messo di corrispettività che alla fine anche in questo caso inibisce al capo condannatorio al conguaglio di essere posto in esecuzione fino a passato giudicato del capo costitutivo della vittoria e dopo di che si immaginano altri due tipi di rapporti uno che è quello più è quello il legame meno stretto quello di me l'accessorietà per esempio la condanna alle spese è quello pacificamente può essere posto in esecuzione l'altro che è quello che invece in cui viene ricompreso il caso di specie viene chiamato rapporto di dipendenza necessaria tra un capo e l'altro in questo caso poiché il capo è solo dipendente dal capo dichiarativo allora si consente che venga messo in esecuzione il capo di condanna e perché in questo caso è dipendente e non si può parlare di nessuno di corrispettività ed è molto sottile in questo caso la distinzione secondo me qua è veramente poi difficile distinguere perché la prima pronuncia la pronuncia dichiarativa di nullità da quella dichiarazione di nullità deriva la retrocessione del diritto al primo d'antecauta poiché deriva automaticamente quell'effetto la condanna al rilascio è successiva è in conseguenza di quell'effetto ma non è ricompresa nel primo capo come invece avviene nell'ipotesi di 2932 io quindi la differenza che in realtà noto che viene fatta è tra sentenze costitutive e tra sentenze dichiarative perché nelle prime in realtà la condanna al rilascio è sempre ricompresa nel primo capo nel capo costitutivo nei secondi casi invece quando viene dichiarato che infatti è nella 2032 e nella sentenza di divisione la giudice disdivide quindi prea due diritti reali diversi non è una sentenza dichiarativa la costitutiva e nella divisione rientra anche il conguaglio e su questo c'è tutto un problema perché vi è una grande dubbio interpretativo su quale sia l'effetto delle sentenze di divisione io ho sempre pensato sia un effetto costitutivo perché è in cui rientra anche il conguaglio che rientra nella divisione però non è pacifico mentre invece nei casi in cui vi siano capi dichiarativi in questi casi l'eventuale capo condannatorio non è parte del primo e quindi come nel caso di specie può essere messo in esecuzione io avrei finito spero di essere mantenuto nei tempi perché Raffaele era stato nazista nel dirmi guai a te se vai oltre 20-25 minuti assolutamente grazie grazie davvero e complimenti per questa spiegazione di una sentenza davvero particolarmente difficile però spiegata in termini molto molto comprensibili e molto chiari quindi grazie allora vediamo se i nostri relatori gli altri relatori hanno qualcosa da aggiungere già vedo il prof torrese pronto a partire prego no esatto ringrazio il giudice palagano ma non è vero non è vero che lei aveva imposto in maniera così stringente i tempi scherzo è parte avere visto ragazzi quando si vola alto quando si vanno ad analizzare non solo sentenze complesse ma istituti complessi come il diritto rischia di diventare difficile io più che un intervento sulla sua esposizione che è completissima volevo fare una riflessione giudice prima ha fatto notare come è una novità paradossalmente novità per modo di dire ma non è un qualcosa di storicamente sempre esistente il fatto che le sentenze di primo grado siano immediatamente esecutive giudice prima vi ha fatto notare che in passato la sentenza di primo grado non era mai esecutiva quindi io ottenevo una sentenza di primo grado e prima di poter metterla in esecuzione quindi sostanzialmente prima di poter ottenere quella tutela che il giudice mi aveva riconosciuto dovevo aspettare pregando magari che la controparte non facesse appello perché se la controparte faceva appello io non potevo mettere in esecuzione un bel niente dovevo aspettare che si pronunciasse la corte d'appello ottenevo ragione in appello felicissimo a quel punto dovevo pregare un'altra volta sperando che la controparte non facesse anche ricorso per Cassazione e allora abbiamo detto che oggi dopo la riforma di cui ha parlato il giudice Palagano le sentenze di primo grado sono invece provvisoriamente esecutive salvo però, lo abbiamo visto, quelle costitutive e dichiarative faccio notare che quella che forse una volta fu visto come un traguardo oggi è qualcosa che va un po' stretto perché io lo noto nella prassi d'avvocato oggi quando ci troviamo dinanzi a dei diritti che possono essere tutelati solo attraverso sentenze dichiarative o sentenze esecutive c'è una sorta di fuga dalla giustizia mi spiego dati anche i tempi della giustizia e dato che per ottenere una un giudizio una sentenza di Cassazione partendo dall'introduzione del giudizio di primo grado raramente ci vogliono meno di 12, 13 qualche volta a 14 anni è chiaro che un soggetto si rende conto che laddove la questione è verta su un bene di grosso valore forse è opportuno trovare soluzioni diverse mi spiego immaginate che si discuta appunto della proprietà di un bene immobile giudice Palagano prima ha fatto il classico esempio di sentenza costitutiva abbiamo un contratto preliminare io sono pronto a concludere il definitivo così come prevede il preliminare l'altra parte dice sai che c'è di luogo io il definitivo con te non lo voglio fare il bene non te lo voglio vendere e ha detto giustamente il giudice bene tu hai un rimedio però attraverso l'articolo 2932 esecuzione in forma specifica mi porti in tendenza a un giudice e ottieni una sentenza di condanna quella sentenza sostituisce il contratto che l'altra parte non ha voluto concludere con te quindi sostanzialmente attenzione a chiudere i microfoni se li avete aperti quindi sostanzialmente con quella sentenza tu hai lo stesso effetto del contratto che l'altra parte non ha voluto concludere benissimo quella sentenza però non è provvisoriamente esecutiva perché è una sentenza costitutiva quindi se si fa appello e se si fa cassazione tu non puoi eseguire quella sentenza e visto che spesso quando parliamo di contratti preliminari parliamo di valori economici importanti parliamo del prezzo di un immobile normalmente perché il preliminare è un vestito che normalmente no si mette attorno tra virgolette al contratto di vendita immobiliare possiamo parlare di 200, 300, 400 mila euro e quindi molto probabile che trattandosi di normalmente quando è che si arriva in cassazione ragazzi ve lo dico per chi non fa l'avvocato quando si discute di cifre importanti se si discute di poco è raro che il cliente è pronto ad arrivare fino in cassazione perché costa soldi e allora quello che si verifica è che quando si discute di beni importanti si tende a seguire strade diverse e allora quando l'università ha la domanda classica qual è lo strumento tipico in caso di inadempimento del contratto preliminare lo studente giustamente risponde 2932 esecuzione in forma specifica non sa giustamente lo studente che in realtà nella stragrande maggioranza di casi si agisce in modo diverso risoluzione e risarcimento del danno perché nessuno ha voglia di aspettare 16 anni per la sentenza della cassazione quindi forse si potrebbe immaginare una riforma che renda provvisoriamente esecutive anche quel tipo di sentenza ho finito, complimenti al giudice vediamo se ci sono altri interventi o domande chiaramente anche il giudice può replicare anche Michele può replicare sì, grazie davvero complimenti ancora al giudice vediamo se l'avvocato posta il dottor Cevri hanno qualcosa da aggiungere no, io vorrei fare i complimenti comunque a Michele sicuramente è una sentenza molto molto importante e concordo ovviamente con l'avvocato Torrese rispetto a quello che ha poco anzi detto perché in quella pratica spesso quando si ha a che fare con cifre così importanti è molto difficile comunque arrivare ad una soluzione che il soggetto in qualche modo rischia in tal senso però è molto molto importante questa lezione soprattutto per coloro che comunque si accingono nella seconda parte nell'esame d'avvocato perché è una sentenza che fa riflettere sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista procedurale anzi devo dire che molte volte molti studenti fanno delle incertezze proprio sulla natura dichiarativa o costitutiva dell'azione di inunità e della sentenza di inunità e sulle altre sentenze che sostanzialmente i giudici pongono in essere quindi questa è stata molto 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 importante quindi complimenti assolutamente concordo con te Federica io non vedo domande perché la spiegazione è stata davvero molto esaustiva e chiara ovviamente poi se sovraggiungono altre domande insomma come sempre le andiamo a recuperare ma adesso andiamo avanti con questa puntata di stasera e passiamo all'analisi di una sentenza di dritto penale ad opera del nostro prof Raffaele Torrese avvocato Raffaele Torrese e con ad oggetto il tentativo di interferenze illecite nella vita privata allora buonasera la sentenza di cui parlerò stasera è la sentenza numero ovviamente Cassazione Penale 17 065 ripeto 17 065 del 2022 quindi è fresca fresca ed è una sentenza nella quale la Suprema Corte discorre del tentativo del reato di interferenza illecite nella vita privata qual era la vicenda? la vicenda era quella di un datore di lavoro che installava nel bagno dell'ufficio sostanzialmente dove lavoravano i suoi dipendenti una telecamera privata sostanzialmente per riprendere per vedere cosa facessero nel bagno in appello quindi in primo grado e poi in appello questo datore di lavoro veniva condannato per 615 bis attenzione non sono reati di tipo sessuali perché si era accertato che non vi era alcuna finalità di tipo sessuale la telecamera non era installata in bagno per spiare il dipendente in un momento intimo ma per verificare che cosa facessero come impiegassero il loro tempo condannato in appello per 615 bis reato di interferenza illecite nella vita privata nella forma del tentativo perché si accertava che in concreto non era stato in grado effettivamente il datore di lavoro di carpire alcune immagini fino a quel momento quindi non si era consumato ancora il reato di interferenza illecita nella vita privata e dunque questo rispondeva di tentativo di interferenza illecita peraltro aggravato con l'aggravante comune di cui è l'articolo 61 61 è l'articolo che elenca tutte le aggravanti comuni numero 11 cioè quella relativa all'aver commesso il fatto con abuso di autorità datore di lavoro, prestatore di lavoro ricorre per Cassazione il datore di lavoro che era stato condannato lo ripeto per tentativo di interferenza illecita nella vita privata ricorre per Cassazione perché? perché sulla base di una consulenza tecnica egli accerta che il posizionamento della videocamera era in concreto inefficace a riprendere effettivamente il prestatore di lavoro cioè sostanzialmente dimostra attraverso una perizia il ricorrente che quelle telecamere anche se fossero state attivate non sarebbero state in grado di riprendere davvero il lavoratore in bagno perché sostanzialmente il campo visivo delle stesse era coperto da un mobile ovviamente per un errore erano state installate malamente e quindi sulla base di tale argomentazione il ricorrente chiede di andare sente da pena in quanto sostiene che il suo reato sia un reato impossibile reato impossibile articolo 49 del codice penale che poi vedremo che la norma sostanzialmente che sostiene che quando l'azione criminosa che tu volevi porre in essere sostanzialmente è stata inidonia a commettere il reato quello non è un vero reato non è un tentativo di reato ma devi andare esente da pena quindi sostanzialmente ripeto condannato per tentativo di interferenza illecita nella vita privata chiede di essere assolto con ricorso per cassazione facendo valere facendo rilevare come il reato in questione in realtà è impossibile perché per inidoneità dei mezzi predisposti a realizzarlo perché quella videocamera non è in grado di riprendere alcun soggetto quindi ragazzi questa è una sentenza importantissima non tanto con riferimento alla norma in questione di cui pure parleremo cioè il reato di interferenza illecita ma per capire i rapporti tra due istituti importantissimi del diritto penale il tentativo di reato disciplinato dall'articolo 56 e il reato impossibile disciplinato dall'articolo 49 e vedrete che in realtà si tratta di due facce della stessa medaglia non l'uno troppo distante dall'altro ma non bruciamo le tappe partiamo dal nostro 615 bis reato di interferenza illecita nella vita privata chiunque mediante l'uso cioè l'utilizzo di strumenti di ripresa visiva o sonora ad esempio le videocamera si procura indebitamente notizie o immagini relative alla vita privata di una persona svolgentesi nei luoghi indicati dall'articolo 614 quindi nel domicilio di una persona è punito con la reclusione dai sei mesi a quattro anni frafrasiano 615 bis è il reato di cui risponde chi attraverso l'utilizzo di strumenti visivi o sonore cellulari videocamere eccetera si procurano indebitamente o informazioni o foto o video di una persona ritraendola questo è importante nel luogo del proprio domicilio quindi il 615 bis scatta solo se queste riprese siano state eseguite in un luogo di privato domicilio della persona offesa quindi è una norma che serve sostanzialmente a garantire la riservatezza personale a garantire un soggetto dagli atti di intromissione in debita nel proprio domicilio e in questo senso il 615 bis si salda con il 614 614 è la classica violazione di domicilio che sia se io entro non invitato a casa tua 615 bis sia quando io non entro a casa tua però grazie a videocamere a cellulare io spio in casa tua quindi sono norme speculari se c'è violazione fisica di domicilio 614 se la violazione invece è solo video e solo audio allora scappa il 615 bis il reato di interferenza illecita nella vita privata analizziamo la norma utilizzando i nostri classici strumenti intanto dove è collocata nel secondo libro del codice penale secondo libro ovviamente libro dei delitti quindi questo già ci permette di dire che questo reato non è una contravvenzione ma è un delitto voi sapete i reati si dividono in delitti e in contravvenzioni i delitti sono i più gravi le contravvenzioni quelli meno gravi quindi i reati meno gravi se non fosse collocato nel secondo libro ma in una legge speciale come faremmo a sapere se è un delitto o una contravvenzione molto semplice basta guardare la pena se la pena è quella della reclusione è un delitto se la pena è quella dell'arresto è una contravvenzione trattasi di un reato comune perché chiunque può realizzare questo delitto sia io che non sono un pubblico ufficiale sia il giudice pallagano che è un pubblico ufficiale chiunque non è un reato proprio non richiede che un soggetto abbia una specifica qualifica a monte è un reato comune e un reato monosoggettivo vuol dire che io posso realizzarlo da solo poi posso anche mettermi insieme a qualcun altro per realizzarlo abbiamo un concorso di persone tutti i reati monosoggettivi sono reati eventualmente plurisoggettivi ma il reato di per sé è monosoggettivo può essere commesso da un solo soggetto qual è la condotta criminosa il precetto penale si compone di un solo verbo procurarsi procurarsi notizie o immagini quando vi trovate dinanzi ad un progetto penale composto da un solo verbo normalmente vi viene da pensare che quel verbo indica la condotta e che quindi il reato è il reato di mera condotta quindi la condotta potrebbe essere procurarsi immagini ragazzi niente di più sbagliato perché perché il verbo procurare è un verbo che dà l'idea di un'acquisizione di un risultato di un'attività come ho fatto a procurarmi delle immagini della vita privata della mia lavoratrice ho installato delle telecamere ho lasciato il cellulare acceso mentre lei pensava di essere la sola quindi ragazzi procurarsi è un verbo che indica l'effetto di una condotta come ho fatto a procurarmi quelle immagini l'ho fatto mettendo le videocamere quindi ragazzi procurarsi notizie o immagini non è la condotta è l'evento dedotto nella norma quindi si tratta di un reato di evento l'evento qual è? procurarsi immagini o procurarsi notizie e qual è la condotta? niente di più facile se il legislatore non lo dice il reato è un reato evidentemente che può essere realizzato attraverso varie modalità qui dice mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora quindi la condotta è in un certo senso vincolata perché devi utilizzare sempre uno di quegli strumenti ma è evidentemente alternativa visiva o audio o audio o audio visiva evidentemente quindi un reato di evento oppure un reato causalmente orientato trattandosi di reato effettivamente la cui condotta è aperta qual è il bene giuridico presidiato dalla norma? la libertà individuale per rispondere a questa domanda niente di più facile libro del codice penale dei delitti bene guardate il titolo e vedete qual è il bene giuridico che la norma tutela la libertà individuale e in particolare l'inviolabilità del domicilio perché perché è necessario che io nel mio domicilio possa fare ciò che voglio e non possa essere oggetto di destinazione di registrazioni di riprese eccetera è una violazione del mio domicilio anche se tu non metti un piede in casa è la stessa cosa è un reato di danno o un reato di pericolo quindi l'inviolabilità del domicilio viene messa in pericolo o viene danneggiata è un reato di danno perché nel momento in cui tu sei riuscito a capire delle informazioni sulla mia vita privata nel mio domicilio evidentemente hai leso il bene giuridico libertà personale l'hai lesa l'hai intaccata la mia libertà personale scusa per la tosse qual è l'elemento soggettivo se la norma non dice nulla il codice penale ci chiarisce che il delitto è punito solo a titolo di dolo quindi serve la consapevolezza del fatto di star procurandosi delle immagini private nel domicilio di un soggetto e la volontà di farlo essendo un reato di evento può essere realizzato anche nella forma tentata in che modo hai predisposto tutti i mezzi idonei e necessari per procurarti quelle immagini però per un qualunque motivo non sei riuscito a procurarti non rispondi in questo caso di interferenza e lescia nella vita privata ma di tentata interferenza nella vita privata che è proprio il caso del nostro tizio quali sono le due questioni un po' più problematiche poste dalla traccia una non è che sia semplice per sé ma oggi la consideriamo semplice perché la giurisprudenza ci ha dato un'enorme chiarezza sul punto dove è venuta questa interferenza illecita nella vita dei lavoratori a casa loro nel loro domicilio no non in senso tecnico domicilio è il centro dei tuoi interessi se tu lavori in un'azienda non è quello il tuo domicilio evidentemente lì è solo il luogo in cui svolgi l'attività lavorativa e il tuo domicilio sarà il posto dove siedi corrisponderà in questo caso con la tua abitazione domanda in questo caso può rispondere l'interferenza illecita nella vita privata il datore di lavoro che mette la telecamera in bagno posto che il bagno non è e in particolare il luogo di lavoro non è il domicilio del suo lavoratore potrebbe essere il suo di domicilio ma non il domicilio del lavoratore risposta sì sì perché la giurisprudenza ormai in maniera palestra in maniera pacifica equipara i luoghi di lavoro al domicilio e lo fa rispetto a quale norma rispetto alla violazione di domicilio rispetto al 614 chiarendo che chi viola il luogo in cui svolgo la mia attività lavorativa è equiparato sostanzialmente a chi viola il posto in cui dormo la mia abitazione e quindi anche le violazioni scusate quindi anche le violazioni che avvengono attraverso riprese audiovisive sono punibili in entrambi i casi quindi il primo problema lo superiamo agevolmente riprendere la prestatrice di lavoro riprendere la mia dipendente in bagno evidentemente può configurare il tentativo perché la ripresa non è riuscita il tentativo di interferenza illecita nella vita privata qual è l'altro problema l'altro problema ma è che con ricorso per Cassazione lo abbiamo detto il datore di lavoro faceva notare faceva valere come per un errore nel piazzamento della telecamera in realtà le stesse erano completamente inidonee a riprendere le sue dipendenti o i suoi dipendenti mentre andavano in bagno perché la stessa era stata piazzata male e piazzata di modo tale per un errore che il campo visivo della stessa fosse occultato da un armadietto quindi in concreto non saresti riuscito a vedere con bel nulla domanda in questa ipotesi è giusto condannare il datore di lavoro per tentativo di interferenza illecita nella vita privata o invece è il caso di mandarlo essente da pena perché ha realizzato un reato impossibile e cioè per la inidoneetà dei mezzi utilizzati non poteva mai commettere il reato perché se hai messo la telecamera davanti a un muro sarai la peggiore persona del mondo ma non potevi mai inquadrare il tuo dipendente in bagno ovviamente la questione passa per la identificazione dei limiti e del perimetro dei due istituti leggiamo l'articolo 56 chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica ovviamente ragazzi non mi posso dilungare sul tentativo l'ho fatto ampiamente al corso però l'articolo 56 è importante perché la norma che vi dice che per potersi avere tentativo di un reato è necessario che tu abbia compiuto atti idonei a realizzare quel reato e inequivoci quindi due requisiti idoneità degli atti che hai compiuto e inequivocità togliamoci subito dalle scatole l'inequivocità non c'è dubbio che se tu metti delle telecamere nel bagno nascosta nel bagno dove stanno i tuoi dipendenti stai sicuramente compiendo degli atti che sono inequivocamente diretti a carpire informazioni private sulla loro vita sul punto non c'è dubbio quindi l'unico dubbio per poter essere sicuri che il soggetto in questione dovesse essere condannato per tentativo di interferenza illecita è quello relativo alla idoneità e cioè siamo sicuri che debbano essere considerati idonei gli atti posti in essere dal soggetto che ha occultato una telecamera anzi più telecamere mi sembra in un bagno ma in una posizione tale da far sì che le stesse fossero sostanzialmente inoffensive il dubbio viene perché perché se leggete l'articolo 49 in particolare il comma secondo dell'articolo 49 cosa leggete che quando che il reato che sia un reato impossibile e un soggetto deve andare esente da pena quando per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto è impossibile l'evento dannoso o pericoloso quindi l'articolo 49 ci dice che quando l'azione criminale che tu hai posto in essere inidonea allora non è possibile condannarti per tentativo devi essere mandato esente da pena perché il tuo reato è impossibile quindi abbiamo due norme il 49 comma secondo e il 56 che sono molto vicine l'una all'altra una vi dice che se anche non hai commesso il reato ma hai tentato di farlo se il tentativo quindi se quello che hai realizzato fino a quel momento è inequivocamente diretto a quell'obiettivo ed è idoneo a conseguirlo risponde il tentativo il 49 dice invece se l'azione se quello che hai fatto è idonea a conseguire il risultato allora il reato è impossibile e non rispondi di niente neanche gli tentativi fatta questa dovuta premessa allora dovete porvi questo quesito per comprendere se effettivamente il datore di lavoro debba rispondere o no di tentativo di interferenza illecita nella vita privata dovete porvi una domanda gli atti da lui posto in estere sono idoni o inidoni a conseguire il risultato perché è chiaro che se gli atti sono idonei allora dovremmo avere un tentativo se gli atti sono inidonei dovremmo avere un reato impossibile il problema però che non esiste una nozione chiara e semplice di idoneità e quindi non sempre è agevole comprendere se per la Cassazione un determinato atto sia idoneo o inidoneo tenuto ovviamente presente che la idoneità si guarda ex ante quindi si guarda al momento in cui i fatti sono stati posti in estere e non con il giudizio con il famoso stendo di poi con il giudizio successivo allora la Cassazione che si pronuncia su questa vicenda è una Cassazione importantissima perché cerca di tracciare una linea di confine tra il reato impossibile da un lato e il tentativo di reato cosa mi dice la Cassazione mi dice che la Corte ritiene sussistente in queste ipotesi il tentativo di reato perché ha ritenuto che gli atti in questione fossero ex ante considerabili idonei a raggiungere il risultato cioè l'evento e cioè procacciarsi informazioni o immagini di quella persona la Corte fa un ragionamento a contrario e cosa dice dice che non può trattarsi in questa ipotesi di un reato impossibile perché perché l'idoneità negli atti deve essere valutata con riferimento alla possibilità stratta che la condotta riesca a conseguire l'obiettivo dice ancora la Corte per poterse avere reato impossibile ci deve essere un'assoluta inefficienza e un'assoluta inadeguatezza dei mezzi in questione solo in questo caso si può parlare di idoneità negli atti e allora se ad esempio io piazzavo delle telecamere che erano completamente rotte in bagno quello sì che era un reato impossibile però il fatto che invece abbia piazzato delle telecamere che rotte non sono ma che funzionano che però non sono state collocate in modo perfetto e quindi evidentemente permettono una ripresa video disturbata e una ripresa audio di scarsa qualità non può portare a mandarti esente da pena perché l'azione inidonia e quindi il reato impossibile articolo 49 secondo comma ma dobbiamo invece ritenere che l'azione in questione oltre a essere inequivocamente diretta a commettere quel delitto fosse idonea realizzato perché possiamo dire non ha una inidoneità così manifesta da far scattare l'articolo 49 quindi una Cassazione fondamentale non tanto per quello che vi dice sul reato di interferenze lecce nella vita privata perché su quel reato onestamente vi dice poco se non quello che già sappiamo e cioè che il luogo di lavoro è equiparato alla dimora ma è una sentenza importante perché fa una distinzione tra tentativo e reato impossibile io chiuso spazio prima gli interventi e poi la domanda se non muoio prima con questa torta posso intervenire un attimo posso intervenire solo un attimo certo no io mi sono allontanato dall'ufficio perché nel posto dove io ho presso servizio non è molto consigliabile tornare molto tardi a casa quindi per questo mi sono allontanato però vi continuo a seguire dal telefono va bene? assolutamente va benissimo grazie e complimenti ancora sì mi associo complimenti per la spiegazione del nostro prof Torrese e vediamo se Federica Possa e Mario Cevoli hanno qualcosa da aggiungere Mario no vediamo Federica sì devo dire che questa è stata veramente una sentenza io ho letto attentamente questa sentenza completa devo dire la verità completa in tutti i suoi elementi perché definisce quella che è una controversia nell'ambito del diritto e il sistema penale tra molto dilungata molto discussa proprio fra tentativo e reato impossibile molto spesso la linea di demarcazione fra questi due fatti specie non è agevole e credo che la dottrina già ci ha registrato diversi interventi in passato ma anche la giurisprudenza ma devo dire che questa è una sentenza molto 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 importante quindi mi raccomando nel restare ben in ascolto perché è stata veramente molto tecnica perché appunto richiama non soltanto aspetti del insomma della norma della fattispecie incriminatrice di parte speciale come l'articolo 615 bis che tra l'altro vorrei ricordare una norma che abbia stato tante perplessità in passato proprio per la sua ambito di applicazione che adesso è pacifico che è molto ampio anche con un richiamo all'articolo 614 sull'operazione del domicilio ma riguarda una sentenza che non riprende soltanto la fattispecie di parte speciale ma appunto richiama aspetti di diritto sostanziale oggi specifici ma in passato abbastanza discursi esatto assolutamente Federica assolutamente allora diamo lo sguardo alle domande e come sempre per il nostro prof torresi sono in arrivo domande allora partiamo dalla domanda di Marco che chiede ma l'univocità nel tentativo non andrebbe valutato come elemento psicologico intesa come preordinazione finalistica della volontà della gente a commettere il delitto in questo senso escludere l'univocità degli atti a procurarsi no l'inequivocità degli atti va vista rispetto alla quanto è realizzato fino a quel momento quindi il giudice tenendo conto di quel segmento di condotta che è stato realizzato deve chiedersi ma questo segmento di condotta realizzato è un segmento inequivocamente diretto a realizzare quel delitto oppure in realtà io potrei aver tenuto quelle condotte ma poi alla fine potevo voler fare qualcosa di diverso e allora per esempio nella famosissima sentenza che punisce per tentativo i ladri che si erano nascosti in un supermercato per restare lì fino a chiusura e poi svaliggiarlo una volta chiuso sono stati puniti perché si è ritenuto in equivoco l'atteggiamento di nascondersi in un supermercato perché dovresti farlo solo e soltanto per derubare stessa cosa qua perché stai mettendo delle videocamere in bagno due sono le possibilità o si è un pervertito però dagli accertamenti fatti si era capito che non c'era nulla di libidinoso ma che lui visto in una serie di precedenti voleva controllare i suoi dipendenti e allora se lo stai facendo vuol dire che lo fai per captare notizie o informazioni o per vedere cosa fanno i tuoi dipendenti quando sono in bagno bene andiamo avanti c'è ancora un'altra domanda da parte di Antonio che vado a leggere professore si può configurare reato di interferenza nella vita privata il datore di che installa TLC all'interno del luogo di lavoro nei pressi della porta ingresso uscita riprendendo tutto l'ambiente di lavoro assolutamente sì assolutamente sì come no senz'altro sì bene allora io non vedo altre domande per il momento quindi proseguiamo andiamo avanti e chiaramente poi come sempre nel caso andiamo appunto a riprendere a ripescare le domande sì c'è Marco che ringrazia per la risposta grazie mille chiarissimo sì grazie assolutamente no c'è ancora però un altro dubbio da parte di Marco quindi non andiamo avanti e leggiamo il dubbio di Marco ma il giudizio di idoneità nel tentativo non andrebbe condotto secondo la tua regola maggioritaria dottrina sulla base di una valutazione ex ante in concreto e a base non parziale ma totale e quindi sulla base di tutti gli elementi conosciuti dalla gente al momento del fatto sono d'accordo che la valutazione vada fatta in concreto sicuramente sulla base per la verità la questione è molto complessa però non è questa la sede per parlarne perché finiremo per parlare fino a mezzanotte il tentativo quindi ti rimando al corso va bene prego andiamo avanti esattamente ragazzi io vi ricordo che come sempre sono pillole di lezioni poi chiaramente per l'approfondimento insomma abbiamo un validissimo professore sapete dove siamo e quindi basta semplicemente poi contattarci attivatamente per l'iscrizione ai nostri corsi di preparazione allora andiamo avanti e passiamo adesso ad una sentenza quindi ripassiamo all'analisi di una sentenza di dritto civile ad opera del nostro dottor Mario Cevoli e con ad oggetto il ridarcimento del danno per disinteresse del padre fin dalla nascita prego buonasera a tutti allora la cassazione di oggi è la numero centocinquantuno quarantotto del dodici maggio duemilaventidue quindi recentissima che tratta appunto il tema del risarcimento che spetta al figlio per il disinteresse di uno e due genitori successivamente al mancato riconoscimento allora occorre fare un leggerissimo excursus ovvero sappiamo che la legge che a parte la legge il codice civile e la costituzione prevedono delle forti tutele in capo ai figli anche a discapito dei genitori sappiamo che la legge italiana impone appunto ai genitori una serie di doveri nei confronti dei figli che si esplicano ad esempio nel provvedere al loro mantenimento ma anche nel seguire nella crescita educarli assisterli quotidianamente eccetera da quelli che si configurano come doveri dei genitori si vanno a creare anche i cosiddetti diritti dei figli quindi quindi il diritto appunto ad avere un mantenimento un'assistenza morale materiale eccetera da ciò deriva che ogni figlio indipendentemente che sia nato in costanza o fuori il matrimonio ha diritto appunto ad essere educato e mantenuto e come appena detto si tratta appunto di diritti che spettano al figlio e che nascono indipendentemente dal fatto che sia nato da una coppia sposata oppure da una coppia non sposata ormai non c'è più questa distinzione perché la riforma al diritto di famiglia del 1975 ha assimilato queste posizioni diciamo che per coloro che optano per il matrimonio la formula di legge contenuta nell'articolo 147 del codice civile ma più in generale anche abbiamo l'articolo 30 della della costituzione però bisogna anche ammettere altresì che il problema delle violazioni dei doveri dei genitori nei confronti della prole non è unicamente di natura economica quindi questa negligenza da parte dei genitori come può sembrare agli occhi tutti non si manifesta sempre e soltanto sotto un profilo puramente economico ma anche ad esempio che un genitori si disinteressi di di fornire al figlio un supporto affettivo la giusta la giusta istruzione eccetera quindi non si ricollega tutto solo ed esclusivamente a un valore economico però c'è una distinzione e nel senso se queste carenze si limitano solo al al piano affettivo la la conseguenza a questo resta confinata nell'ambito civilistico per quanto riguarda il risarcimento del danno mentre se si allargano sul piano economico possono in certi casi anche integrare gli estremi di leato ora cosa succede succede che è scontato che nessuno decide spontaneamente di nascere e di venire al mondo quindi una volta che il bambino è nato entrambi i genitori hanno il dovere di mantenerlo ed educarlo hanno il cosiddetto dovere anche di assisterlo qualcuno si sottrae a questo impegno e trascura sostanzialmente tutti questi obblighi e come come li trascura li trascura tra virgolette ad apice non riconosce il figlio il non riconoscimento del figlio in questo nel caso di specie della sentenza si tratta del padre che non ha riconosciuto il figlio e cosa rischia il padre che non vuole riconoscere il proprio figlio ovvero ricordiamo però ricordiamo sempre che evitare il riconoscimento è un fatto illecito però c'è una forma di tutela che spetta sia alla madre quindi che può essere richiesta sia dalla madre sia dal figlio maggiorelle per avere questa dichiarazione di riconoscimento di paternità non è soltanto la madre che può agire per chiedere riconoscimento ma anche il figlio quando diventa maggiorenne può chiedere appunto una dichiarazione giudiziale di paternità che consentirà poi allo stesso in caso di figlio o alla stessa in caso di mamma potrà ottenere in caso di esito positivo che cosa il lo status in primis di figlio a tutti gli effetti e chiedere anche risarcimento dei danni ora quando un figlio viene generato tra due persone unite in matrimonio il rapporto giuridico di filiazione si instaura automaticamente quindi con tutti i diritti e doveri che ciò comporta però ci si chiede ma se il figlio nasce dall'unione di un uomo ed una donna che non sono sposati tra di loro la si pone poi il problema del riconoscimento del figlio naturale e del non riconoscimento del figlio la prova quindi la prova della paternità come può essere fornita può essere fornita con ogni mezzo quindi in tempi passati si usavano c'era anche la presunzione ovvero si presumeva che tizia convivesse con Caio e quindi automaticamente Caio fosse il padre del figlio di tizia oggi la cosa è più semplice tra virgolette tramite il test del DNA si fa il test del DNA però ovviamente c'è la possibilità che il padre rifiuti di sottoporso al test del DNA che il rifiuto qualora fosse privo di motivazione comporterebbe proprio l'effetto contrario cioè il giudice può presumere che il il diniego da parte del padre di sottoporsi al test del DNA presuma faccia presumere che automaticamente voglia evitare il riconoscimento di un figlio proprio ora però il problema che pone questa la sentenza è questo ovvero una volta che viene accertato una volta che il figlio chiede questo riconoscimento il giudice accerta questo riconoscimento e quindi si ha questo rapporto di filiazione da quando scatta il risarcimento danni cioè successivamente quindi dal giorno della sentenza o prima da quando inizia il danno in questo ci viene in aiuto l'articolo 277 del codice civile che afferma che la sentenza che leggo allora afferma che la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento e quindi automaticamente ha un'efficacia retroattiva quindi il risarcimento del danno per tutta la per tutta la situazione quindi dalla mancata assistenza morale al dovere di educazione eccetera nasce al momento della nascita del figlio quindi ha un effetto retroattivo che si ripercuote al giorno della nascita e perché la la castazione ha avuto esigenza c'è stato c'è stata questa sentenza perché perché il padre li correva in castazione per influire a suo modo di vedere sul quantum di questo risarcimento dicendo che non era possibile che dovesse risarcire dal giorno della 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 nascita del figlio in questo la castazione diciamo ripeto che la legge pone delle tutele abnormi nei confronti dei figli faccio un esempio che è capitato nel dove dove lavoro alle volte il giudice poco si interessa pure del diciamo del reddito del padre per quanto concerne il il quantum monetario che il padre dovrà dare poi al al figlio l'interesse del giudice solo ed esclusivamente nei confronti del figlio e poco interessa al giudice delle condizioni economiche dei genitori la la sentenza di oggi quindi cosa cosa stabilisce stabilisce che il figlio ha diritto all'esercimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quando il padre ovviamente se ne disinteressa la misura del ristoro però sale se l'abbandono ovviamente avviene durante l'infanzia e l'adolescenza perché il momento in cui l'assenza del genitore si fa più sentire e si ha l'appello scusatemi la Cassazione ha ribadito questo concetto poiché dopo la nascita del figlio l'uomo si era allontanato e disinteressato del piccolo in che modo non fornendogli un aiuto economico ma non riconoscendolo a questo la sentenza e quindi conseguentemente la corte di Cassazione ha sancito l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita anche se la 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 procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza quindi la sentenza che accerti la 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 procreazione ha un effetto retroattivo e quindi per i giudici di legittimità il motivo del della decisione del di primo grado è fondato poiché hanno ricordato che cosa sostanzialmente che l'obbligazione trova la sua ragione eh giusti giustificatrice nello status di genitore la cui efficacia detrattiva ovviamente è datata al momento della nascita del figlio per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli ex articoli 147 e 148 del codice civile sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale quindi alla Cassazione non interessa quando è stata fatta la domanda giudiziale quando è stata pubblicata la sentenza no ha un effetto detrattivo e quindi eh il il padre che non ha riconosciuto il figlio dovrà risarcire il danno al giorno della nascita ovviamente questo è a mio parere una sentenza giustissima quindi sono molto d'accordo con la Cassazione perché si ha un abuso di non riconoscimenti si ha un abuso di non riconoscimenti in virtù ritroviamo soprattutto quando il figlio eh diciamo nasce da due persone che non sono unite in matrimonio e proprio la la l'idea di non essere uniti in matrimonio porta al fatto che uno dei due genitori si senta più forte nel non riconoscere il figlio e quindi questa sentenza qua a mio parere è giustissima perché pone oltre a eh sottolineare nuovamente le innumerevoli tutele che eh di cui godono i figli in questo caso un figlio minore diciamo rimarca di nuovamente tutti quelli che sono gli obblighi dei genitori verso i figli e dice vedete che che tu genitore il tuo obbligo non nasce soltanto se tu lo riconosci il figlio o se il figlio nasce dal matrimonio attenzione il tuo obbligo di mantenimento nasce per il solo fatto di averlo generato non mi interessa la Cassazione va anche contro il fatto che sia stato riconosciuto dal figlio la Cassazione dice a me non mi interessa che tu lo hai riconosciuto non c'era bisogno della sentenza di riconoscimento affinché tu debba adempiere gli obblighi eh nei riguardi del 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 figlio in ogni caso è importante questa sentenza perché rimarca l'articolo 277 del codice civile che dice che la sentenza in ogni caso che accetta eh la procreazione ha un effetto retroattivo e quindi in questo caso il padre è stato poi condannato al risarcimento del danno dal giorno della nascita quindi risarcendo anche la mamma del ovviamente del figlio perché da sola ha dovuto provvedere al mantenimento quindi ripeto che la sentenza è la numero 151 48 del 12 maggio 2022 ovvero l'obbligo del genitore del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce al momento della sua nascita anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza io ho finito quindi se ci sono domande sono qui allora vediamo prima se ci sono interventi da parte dei nostri datori prof una sola cosa volevo dire tanto complimenti al dottor Cevoli che è stato veramente di una grandissima chiarezza espositiva veramente molto 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 chiaro una riflessione questa sembra una sentenza scontata perché uno immagina il classico caso quello un po' di scuola ma probabilmente o tutti hanno un amico che ha subito questa sorte padre che mette incinta con la madre o che all'improvviso dopo che lei ha partorito prende e scompare vado a comprare le sigarette questo famoso cliché genitore scompare in questo caso inizia il giudizio non per ottenere gli alimenti che il soggetto non ha mai pagato a noi viene normale dire beh ma certo che deve iniziare a pagare gli alimenti dal momento in cui ha smesso di pagarli quindi se non li ha mai pagati dal momento della nascita se li ha pagati i primi tre anni e poi è scappato in Belize dai tre anni poi deve pagarli a noi sembra normale però così normale non è perché quello che il dottor Cevoli ha detto seppur implicitamente è che sostanzialmente la giurisprudenza se ne frega dell'elemento soggettivo quindi a noi sembra giustissima la sentenza di condanna da parte di nei confronti del padre che mette incinta la moglie scappa o che a un certo punto quando il bimbo a cinque anni prende scappa a noi questa sentenza si sembra giustissima perché c'è il dolo di questa persona c'è una cattiveria pensate invece a una persona che non sa di avere un figlio anche questo può accadere ebbene nella sentenza diciamo dell'elemento soggettivo della consapevolezza del padre di essere genitore a me non interessa nulla a me l'unica cosa che interessa è che lui è padre se lui è padre ha obblighi di mantenimento attenzione al microfono ha obbligo di mantenimento verso il figlio qui c'è un collegamento automatico che prescinde dall'elemento soggettivo e mi ricorda una famosa sentenza della Cassazione che lessi mi sembra un anno scorso in tema di pillola abortiva e cioè questa persona aveva provato mediante testimoni che la sua fidanzata gli aveva garantito al 200% di assumere la pillola anticoncezionale che quindi non vi sarebbero stati problemi il soggetto in questione riusciva a dimostrare che invece la ragazza appositamente non si sa o meglio detto appositamente ma non sappiamo se per una dimenticanza o una volontà non l'aveva presa ed era rimasta incinta questo non vuole pagare il mantenimento del figlio non voluto la donna gli fa causa e lui viene condannato perché? perché nonostante si provi il fatto che lui non aveva voluto quel figlio aveva fatto tutto quanto in suo potere per evitare di averlo ciò che conta ai fini della sussistenza dell'assegno di mantenimento in favore dei figli è la sussistenza dei figli quindi la genitorialità se poi lei ti ha ingannato beh allora vatti a fare un autonomo giudizio risarcito non nei suoi confronti va bene ma non c'entra niente i figli li devi mantenere comunque anche se non li volevi anche se hai fatto qualunque cosa per evitare di generare quindi un punto molto importante e vedete che applicare questa sentenza in casi diversi da quelli di scuola può portare a risultati un po' più contrastanti io ho finito vediamo se ci sono domande altrimenti passiamo all'avvocato posta no io non vedo domande e chiaramente mi accodo al prof Torrisi per i complimenti alla spiegazione del dottor Mario Cevoli molto chiara e soprattutto anche di diretta e concreta come da suo stile bene allora io direi di andare avanti quindi di passare all'analisi dell'ultima sentenza di questo appuntamento di questa puntata e quindi ritorniamo all'analisi di una sentenza di diritto penale ad opera del nostro avvocato Federica posta e con ad oggetto rapporti tra abuso d'ufficio e farso in atto buonasera a tutti grazie Giussi e inoltre anche io mi complimenti a Mario perché veramente sempre sceglie delle sentenze molto molto interessanti e molto belle anche da leggere veramente complimenti allora la sentenza che commenterò questa sera è una sentenza del 2019 del 2019 numero 35 15 ovviamente siamo soli di occuparci sempre e molto spesso di pronunce più vicine ai nostri tempi quindi dal 2020 in poi ma questa sera devo dire di fare un'accezione perché è una decisione che è veramente importantissima e molto molto insomma discussa in questa sentenza infatti la corte affronta uno di quelli che ritengo essere uno dei temi caldi del diritto penale perché la giurisprudenza di legittimità torna nuovamente a parlare di rapporti tra due tipologie di reati tra cui quello relativo all'abuso d'ufficio disciplinato dall'articolo 323 del codice penale ed il reato di fazzo in atto ai sensi dell'articolo 483 del codice penale allora perché è importante comprendere i rapporti tra queste due fatti specie perché è essenziale perché è importante per la qualificazione giuridica della fatti specie in particolare per questa fatti specie che adesso andremo ad esaminare e soprattutto per rendere effettivo quello che è il trattamento sanzionatorio applicabile alle varie appunto fatti specie ovviamente prima di giungere alle comprendere quelle che sono conclusioni della corte è ovviamente necessario capire della dinamica da cui scaturisce appunto la decisione che stiamo appunto esaminando la vicenda innanzitutto trae origine dalla condanna di un professionista sanitario quindi in questo caso di infermiere il quale nella qualità di pubblico diciamo di incaricato di pubblico servizio perché comunque era un infermiere che svolgeva la sua attività presso una aula di competenza che era stato ritenuto responsabile penalmente ai sensi dell'articolo 323 codice penale quindi come titolo di reato abuso d'ufficio in quanto era emerso nella vicenda che l'imputato avesse fatto figurare il proprio figliolo come ricoverato in un regime ordinario consentendo appunto di sottoporlo a degli esami in questo caso ematici di laboratorio quindi di esami urgenti senza una prenotazione quindi senza un pagamento del ticket contrariamente a quanto previsto dalla disciplina normativa e regolamentare che prescrive l'obbligo di effettuare la prenotazione presso la ASL e il pagamento del ticket quando si tratta di appunto esami di questo genere la corte di appello di Perugia in questo caso confermava la sentenza di condanna già pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti appunto del re di Perniere si ricorre pertanto in Cassazione appunto il diputato ricorre in Cassazione e ovviamente prima di giungere alle conclusioni della corte è necessario esaminare le norme codicistiche che si occupano sia dell'abuso di ufficio sia del falso in atto pubblico quali sono queste norme? innanzitutto ricordiamo la norma sull'abuso di ufficio che è contenuta nell'articolo 323 del codice penale cosa ci dice questa norma? questa norma recita che salvo che il patto non costituisca un più grave reato mi raccomando a questa locuzione che ci servirà tra poco per spiegare appunto questa sentenza quindi salvo che il patto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale e o l'incaricato di pubblico servizio che non lo svolgimento delle funzioni o del servizio in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o dati aventi forza di legge e dalle quali non residono margini di mischiazzualità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio del prossimo congiunto procura se o adatto in un indusso vantaggio è punito con reclusioni da 1 a 4 anni pertanto si tratta come possiamo immaginare di un reato proprio cioè di un reato in cui il soggetto attivo è un pubblico ufficiale oppure in questo caso un incaricato di pubblico servizio che svolge appunto le proprie funzioni quindi in qualche modo viola la fattispecie incriminatrice quindi l'obbligo o il divieto durante lo svolgimento delle sue funzioni o del suo servizio questa norma è una norma che attiene ad un reato plurioffensivo direi plurioffensivo perché perché da una parte tutela il buon andamento della pubblica magistrazione dall'altra parte invece tende a tutelare il privato da quelle che sono le prevaricazioni delle autorità ok e pertanto tende a preservare il patrimonio del terzo del danneggiato che potrebbe essere appunto leso dall'abuso del pubblico funzionario ovviamente il danno del terzo da che cosa può derivare ragazzi può derivare sia da un'aggressione ingiusta nei confronti della sfera patrimoniale di questo soggetto sia nella sfera personale perché in qualche modo un soggetto potrebbe anche sentirsi risentito della condotta penalmente valutabile del pubblico ufficiale diciamo possa essere pubblico ufficiale per incaricato il pubblico servizio quando si può parlare di una condotta abusiva cioè quando una condotta può essere definita abusiva allora l'abusività può consistere sia nella violazione di norme di legge come dice l'articolo 323 dice appunto che la condotta può essere posta in violazione di norme di legge di atti aventi forza di legge e laddove non residuano margini di discrezionalità ovvero laddove vi è una violazione di un obbligo di astensione cioè un obbligo giuridico di astenersi in presenza di situazioni di complitto di interessi ovviamente quindi qualora un soggetto viola le norme sul complitto di interessi pone in essere un abuso cioè abuso della propria posizione e quindi violando la norma che pone un obbligo di astensione quindi il reato ovviamente per la sussistenza del reato si richiede il dolo generico cioè l'impossibilità quindi l'intenzionalità la coscienza e la volontà di porre in essere quella determinata condotta allora fatte queste dovute premesse come abbiamo detto poc'anzi la norma dell'articolo 323 esorvisce dicendo che salvo che fatto non costituisca più grave reato ci tratta questa locuzione attena ad una clausola una clausola di salvaguardia cioè consente di delineare i rapporti fra l'abuso di ufficio e un altro tipo di reato eventualmente più grave dell'abuso di ufficio infatti in questa vicenda che cosa è emerso? Il soggetto oltre a insomma prevaricare quindi abusare della sua posizione per far ricoverare il figlio e farlo sottoporre a degli esami contrariamente diciamo senza abitazione quindi contrariamente alla normativa su quanto previsto dalla normativa in materia che cosa fa? Era divenuto a sottoscrivere negli atti ufficiali di essere stato invece di aver provveduto al pagamento del ticket quindi dichiarando una fattispecie sostanzialmente dichiarando falsamente la fattispecie quindi viene in rilievo ovviamente esaminare quello che è l'articolo 483 del codice penale secondo cui chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a 2 anni questa disposizione non impone nessun obbligo innanzitutto di vericità delle dichiarazioni ma sostanzialmente si limita a come dire punire quelle condotte in cui l'agente attesta appunto falsamente una diciamo riporta una dichiarazione falsa al pubblico ufficiale in un atto pubblico si trattava di un atto pubblico perché è un atto ufficiale dell'ASL dell'ASL che partiene comunque al settore pubblico pertanto questa disposizione non imponendo alcun obbligo di vericità sostanzialmente che cosa fa? si limita soltanto a scaturire diciamo a vietare queste condotte appunto che consistono nelle dichiarazioni falsa quindi si tratta di quella che nel sistema del diritto penale è stata al centro di tanti dibattiti soprattutto per la sua compatibilità con il principio di legalità che è la norma penale in bianco che cos'è la norma penale in bianco? ricorre questa fattispecie quando vi è un sappiamo come sappiamo in base al principio di determinatezza che su cui si basa il sistema penale ogni norma deve riportare il precetto determinato e una sanzione ben determinata nella norma penale in bianco abbiamo invece una sanzione ben determinata ma il precetto è indeterminabile cioè comunque il precetto è lasciato al libero sostanzialmente al vito del legislatore in questo caso fatte queste dovute premesse qual è la qualificazione giuridica e il trattamento sanzionatorio da poter attribuire a questa fattispecie qual è il rapporto che esiste tra l'abuso d'ufficio e il falso in atto pubblico perché il falso in atto pubblico si applica perché lo dice la norma dell'articolo 223 che dice appunto che è salvo che il fatto non costituisca più grave reato allora proprio questa clausola ha posto non pochi problemi sui rapporti tra queste due norme tra queste due fattispecie penali infatti la finalità in atti è un reato più grave e l'orientamento maggioritario all'interno della giurisprudenza che cosa ci dice ci dice che ritiene che il reato di falso in questo caso sia suscettibile di integrare proprio in virtù di questa clausola presente nell'articolo 323 di integrare il reato di abuso di ufficio cioè che il reato di falso in questo caso assorba il reato di abuso di ufficio quando si può parlare di assorbimento che cosa è l'assorbimento l'assorbimento è un criterio di risoluzione del concorso materiale del concorso delle norme di apparenti norme quando si può integrarsi questo assorbimento affinché possa operare l'assorbimento la giurisprudenza di legittimità ritiene che sia necessario la sussistenza ad una condotta materialmente unica cioè se dice la giurisprudenza se il falso è solo una parte delle condotte che integrano l'abuso di ufficio allora questi due reati devono essere contestati autonomamente quindi il trattamento non può essere mai inferiore a quello riservato dalla norma che è stata assorbita quindi viene in rilievo in questo caso il concetto un altro concetto contrariamente all'assorbimento che è il concetto di concorso materiale che cos'è il concorso materiale il concorso materiale si realizza quando un soggetto commette più infrazioni della legge penale per cui deve rispondere di più reati sostanzialmente quindi nel sistema penale il concorso può essere appunto materiale quando un individuo commette una pluralità di reati perché pone più condotte diverse può essere formale invece quando vi è una pluralità quando vi è un'unica condotta con il quale vengono violate più disposizioni della medesima condotta o più norme incriminatrici sostanzialmente nel caso del concorso materiale che ci interessa in questa parte specie qual è il trattamento sanzionatorio nel trattamento sanzionatorio il criterio applicabile è quello del cumulo giuridico cioè si applicano tante pene quanto appunto si applicano tante pene quanti sono comunque i fatti specie penali possano essere quindi quanto sono le condotte possano essere invece per il concorso formale si applica sempre la pena prevista per il reato più grave aumentata per il triplo in questo caso invece in questa fatti specie che cosa è inerso si può applicare l'assorbimento o il concorso formale questa diciamo la questione che emerge da questa sentenza cioè nel caso in esame l'infermiere potrebbe rispondere sia di abuso d'ufficio e di falso in atto pubblico o soltanto comunque del reato più grave in virtù dell'assorbimento che il reato più grave fa dell'abuso d'ufficio in questo caso risponde la corte ritenendo che queste sono condotte penalmente autonome cioè praticamente dice la corte che in tema di rapporti fra abuso d'ufficio e falso in atto pubblico sussiste il concorso materiale e non l'assorbimento dell'abuso d'ufficio nel reato più grave di falso qualora la condotta di abuso non si esaurisca nel compimento di un atto falso essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione del reato di cui l'articolo 323 costituendo una parte della più ampia condotta di abuso pertanto quando dice la corte sostanzialmente che quando la condotta di abuso diciamo non si sostanzia nel compimento di un atto di falso o meglio l'atto di falso non costituisca soltanto una parte del reato di abuso di ufficio in questo caso non si ha il criterio di assorbimento ma si può parlare di concorso materiale nel reato pertanto il trattamento sanzionatorio è quello del cumulo giudico cioè si applicano più norme quindi più trattamenti sanzionatori pertanto il soggetto avrà appunto andare incontro a più pene quanti sono i reati posti in essere ok questa è un po' la sentenza molto molto importante abbiamo scelto questa sentenza del 2019 grazie anche all'avvocato Torrese che insomma è una sentenza veramente molto molto importante da cui scaturiscono gli istituti fondamentali nell'ambito del diritto penale perché sono degli istituti molto spesso in cui insomma i candidati ma anche i professionisti hanno delle certezze perché ovviamente sono degli istituti simili ma in realtà si differenziano e è molto importante differenziare proprio in virtù del trattamento sanzionatorio che ne scaturisce pertanto è importante diciamo stabilire qual è la qualificazione giuridica di una fattispecie in presenza di questi connotati proprio in virtù del trattamento sanzionatorio non so se vi sono delle domande allora complimenti intanto Federica davvero molto molto brava come sempre precisa nella spiegazione io al momento non vedo domande e chiedo se ci sono interventi da parte dei relatori prof torresa un commento non sull'esposizione perché Federica come sempre ha letto veramente tutto è stata precisissima una riflessione questa è una sentenza di enorme importanza non tanto o non solo per quanto dice rispetto ai due reati ma perché vi permette di fare una ricondizione generale sull'istituto del concorso materiale di reati e in particolare la differenza tra concorso materiale di reati e concorso apparente di norme concorso materiale di reati e concorso apparente di norme ragazzi il concorso apparente di norme è un concorso pintono e quando sembra che ci sia concorso di reati ma concorso di reati non c'è sostanzialmente e quale sentenza meglio di questa per capire il discrime tra le fatti specie e evidentemente capire quando scatta l'una e quando scatta l'altra approfitto di questo mio intervento per farvi saluti quindi saluto tutti coloro che ci hanno seguito da casa sono le 22.57 siete ancora tantissimi collegati ringrazio tutti i nostri relatori ringrazio il giudice Palagano ringrazio l'avvocato Posta ringrazio il dottor Cevoli ringrazio Giussi ringrazio l'avvocato Savarese che è intervenuto e vi rimando ai nostri due format le nostre due dirette di sabato alle 15 con la risoluzione di due tracce per l'esame di avvocato una di diritto civile e una di diritto penale che saranno pubblicate domani sulla nostra pagina facebook corsi di formazione giuridica 2022 seguitela perché lì ci sono tutte le novità attenti c'è un microfono acceso e poi le ore 17 con la simulazione prova per concorsi pubblici io mi fermo qua vi saluto vi ringrazio per l'attenzione ripasto la parola alla dottoressa De Rosa grazie a tutti arrivederci grazie grazie ancora a tutti per la partecipazione e a tutti i nostri relatori e grazie leggo un sacco di commenti li risponderemo poi con calma e vi rimando chiaramente a restare connessi su tutti i nostri canali social per i prossimi appuntamenti grazie ancora a tutti e buona serata grazie a tutti i nostri